ed ecco l'off-road pian 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 io ho messo la terza ma troppo forte ho bisogno di fare la pausa a pipì ok caglioni da guardia è un po' magare oh un po' di panoramica il cane pastore tranquillo non siamo lupi cattivi non te ne tocchiamo le caprette quello lì quello lì è un rifugio qua è spettacolo è un posto di villeggianti è la vespa vabbè voilà sarà un posto per girare e la uh e dai però facciamo questo dai e dai però facciamo questo dai bello panoramico acqua acqua spettacolo eh sono due antenne sì sono due antenne lì Grazie a tutti.